PIEMONTESI Finalmente il governo si è deciso a mandare l'uomo giusto. Sano però. Mi pare che Mussolini mandò lo stesso prefetto che a Bologna fece arrestare i fascisti. Hanno feduce in lui. Nemmeno era arrivato a Palermo. E già qualche confedente era disposto a parlare. Perché mi chiamano piemontesi? Io non sono del Piemonte. Noi chiamiamo piemontesi tutti nemici. Eccellenza, non fate imprudenze. Qui la prudenza non serve. Tutta la Sicilia deve sapere che il prefetto Mori i gesti di sfida dalla mafia non ne accetta. Antonio Cabecelatro, lo so che sei in casa. Sono venuto ad arrestarti per intraccio a un pubblico servizio. Hai fatto un grosso errore a fermare quel treno. Hai firmato il massacro dei Matile. Mori! Questo è il giorno che saldiamo tutti i conti. Era meglio che le stava a Palermo col culo seduto dalla poltrona a dare ordine. Eccellenza! Lei deve impugnare la sentenza di assoluzione appena emessa. Perché io li devo arrestare prima che scappino. Non posso. Non posso avanzare ancora ricorsi e trovarmi di fronte a nuove assoluzioni. sarebbe la fine della mia carriera di magistrato. Io mi impegno a farle avere una promozione e un trasferimento. No, non intendo avere privilegi. La verità è che lei ha paura! Ma di chi? Ma non lo capite che proprio voi siete le prime vittime della delinquenza? Io sono venuto per combattere quelli che vi sfruttano, quelli che vi affamano, quelli che vi ammazzano! Ma pare che voi siate dalla parte loro! Non stiamo con loro, ma manco con voi! Ma non mi parli di brigantaggio! Non c'era niente da rubare in quella casa! Li hanno massacrati per intimorirmi! Piemontese, Voi mi potete fare cieco, mi potete frustare, tagliare coglione! Io non vi aiuterò mai! Queste sono cose che fate voi briganti! È vero! Noi facciamo uno auto e ci chiamate briganti! Voi altre cose fate! La fame, i malattie, i querbi, o carcere a vita! Non sono peggio! Eccellenza, l'acqua no! Non potete trattare donne e bambini alla stregua dei briganti! Queste cose non le dimenticheranno! E allo Stato non conviene farle! Ma con chi credete di parlare, Spanò? Questa è un'azione di guerra? Non è una processione di ringraziamento! Sì! Questi maledetti! Lasciatelo! Disgraziati! Arrendeteli! O vi faremo abbracci! Vi brucieremo vivi! Sì! 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 Grazie a tutti.